Sì, perfetto. Possiamo cominciare nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. O Signore, noi Ti ringraziamo perché ci raduni alla Tua presenza per farci ascoltare la Tua parola. In essa Tu ci riveli il Tuo amore e ci fai conoscere la Tua volontà. Fa tacere in noi ogni altra voce che non sia la Tua. E perché non troviamo condanna nella Tua parola, letta ma non accolta, meditata ma non amata, pregata ma non custodita, contemplata ma non realizzata? Manda il Tuo Spirito Santo ad aprire le nostre menti e a guarire i nostri cuori. Solo così il nostro incontro con la Tua parola sarà rinnovamento dell'alleanza e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo, Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Siamo così arrivati all'ultima puntata di questo breve itinerario all'interno della prima parte del Vangelo di Giovanni, che ci ha visto fare un po' questi passi a partire da novembre, un'introduzione generale ai primi discepoli e poi in questa ripresa, negli ultimi incontri, questi grandi segni che Gesù compie, che chiamiamo appunto miracoli, il miracolo del pane, il miracolo della luce settimana scorsa e questa sera quello che è il miracolo più grande che il Signore ha fatto nel Vangelo di Giovanni, ossia la risurrezione di Lazzaro. Ecco perché sul foglio trovate scritto così, il segno, segno sta per miracolo, di Lazzaro. Vedete sul foglio che avete tra mano di fatto c'è il Vangelo perché è un testo molto lungo per cui vale la pena tenere davanti il Vangelo e seguirlo in tutta la sua ricchezza senza avere la preoccupazione di disperdersi nel commento. Ho preferito darvi soprattutto il testo e in fondo, come abbiamo fatto la volta scorsa, cercheremo di segnare due punti che possono diventare sintetici. Allora, che cosa abbiamo? Siamo nel capitolo undicesimo. Come inizia questo brano? Introduzione trovate scritto. Sono le prime sei righe. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse, attenzione questa frase che poi ci torneremo, questa malattia non porterà alla morte ma è per la gloria di Dio affinché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Allora che cosa abbiamo in questi primi versetti? Che cosa possiamo sottolineare? Mi sembra importante sottolineare un paio di cose. La prima, quello che potremmo definire, è impressionante. Proviamo a riprendere alcune espressioni. Come viene definito il rapporto tra Gesù e Lazzaro? Le sorelle dicono colui che tu ami. E poi ancora nel versetto 5 Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. È l'unica volta in questa prima parte del Vangelo di Giovanni in cui si usa questo verbo amare, che sarà il grande verbo che si ascolta nella seconda parte del Vangelo. Come il Padre ha amato me, anch'io amato voi. Ma nella prima parte solo qui avente come soggetto Gesù. Che dice che cosa? Dice la qualità della relazione tra Gesù e queste tre persone. Per la prima volta nel Vangelo di Giovanni entrano in scena gli amici. È veramente una delle due grandi linee che terremo d'occhio leggendo questo episodio. L'episodio della risurrezione di Lazzaro, che noi conosciamo appunto per la vittoria della vita sulla morte, è prima di tutto, stante il testo, un brano di amicizia. Ciò che Gesù compie a vantaggio di Lazzaro lo compie perché è suo amico. Non dobbiamo temere, quando leggiamo il Vangelo, anche di affermare questo. Il Signore nella sua vita ha incontrato, lo sappiamo, tante categorie di persone, ha incontrato malati, ha incontrato pubblici peccatori. Con ciascuno di essi ha intessuto una relazione, tra questi ha avuto i suoi amici. Perché nel cuore di Cristo, come nel cuore di ciascuno di noi, c'è un amore universale che tuttavia non toglie il fatto che ci siano delle predilezioni. Questo mi sembra normale. L'amicizia è una di queste predilezioni. Noi siamo tra di noi fratelli e certamente è fondamentale, in forza del battesimo, l'amicizia è per pochi e il Signore ha vissuto nella sua vita la stessa logica. È stato fratello universale, come dirà all'inizio del novecento Charles de Foucault, ha avuto i suoi amici come ha avuto i suoi apostoli e notate che questi amici, Maria, Marta e Lazzaro, cosa anche questa sorprendente, non sono neanche gli apostoli. È qualcosa di diverso, è fuori dal giro. Eppure il Signore solo di loro, si dice, nel Vangelo che ha avuto questo particolare rapporto di amicizia. Se voi guarderete in qualsiasi dizionario l'amicizia nella Bibbia o l'amicizia nei Vangeli, questo capitolo undicesimo ci cade dentro di diritto. Allora, la prima grande osservazione che possiamo fare in ordine a questi versetti di introduzione è questo. Entrano in scena gli amici, il codice dell'amicizia. La seconda osservazione voglio dedicarla a quella frase che vi dicevo è un po' enigmatica, difficile da comprendere, che è quella che trovate lì scritta in corsivo, il versetto 4, cioè quando Gesù sa che il suo amico è malato, come reagisce? Dice, questa malattia non porterà alla morte. A parte che noi che sappiamo già come va a finire, ci sorprende questa definizione, perché in realtà Lazzaro muore. Ma come spiega Gesù? Quindi non è questione di fermarsi alla morte, che pure ci sarà, ma questa malattia che porterà sia alla morte servirà per la gloria di Dio, perché per mezzo di essa il figlio di Dio venga glorificato, cioè attraverso la morte di Lazzaro si capirà chi è Gesù, si capirà di più che Gesù è il figlio di Dio, non so se è chiaro. Quindi questa malattia è per, che condurrà fisicamente Lazzaro la morte servirà per far capire che se qualcuno è in grado di risuscitare un morto, non è un uomo come gli altri. Ecco cosa vuol dire, perché attraverso di questo gesto il figlio di Dio, cioè Gesù, venga glorificato. Continuiamo nella lettura, qui però non voglio perdere molto tempo, sono i versetti questi 7 e 16, Gesù e i discepoli, li leggiamo, vorrei fermarmi soltanto su quello che vi ho messo lì in eretto, sono dei versetti che fanno un po' di, da transizione, cioè dall'introduzione all'incontro vero e proprio con le sorelle, Marta e Maria e con Lazzaro. Però va la pena di leggere anche questi evidentemente. Gesù disse ai discepoli, andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo, quindi Gesù ha intenzione di andare evidentemente da Lazzaro. E questi lo scoraggiano, i suoi, perché dicono, basta sfogliare il Vangelo nei capitoli precedenti, a Gerusalemme ha rischiato per un paio di volte di essere linciato, di essere preso a sassate. Interessante, nel Vangelo di Giovanni c'è questo gioco, tutti noi conosciamo l'episodio dell'adultera. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Quelle pietre che non sono state scagliate contro l'adultera, perché Gesù è riuscito a spezzare quella logica tipicamente farisaica, sono quelle pietre che Gesù si sentirà rivolgere su di sé. Nel capitolo ottavo, andate a vedere come si apre con questo gesto di questa donna che viene salvata dal linciaggio e si chiude con questa gente che cerca di tirare i sassi. Ecco cosa vuol dire, rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, lapidarti vuol dire tirare le pietre. E tu ci vai di nuovo? Gesù risponde, come risponde Gesù? con una frase che dice il pieno possesso di quello che sta facendo. Dice, non sono forse dodici le ore del giorno, se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Brano precedente, io sono la luce del mondo. Qui Gesù dice, nessuno può farmi del male se non è ancora arrivata la mia ora. Io sono la luce, quindi sono padrone di quello che vado a fare, ma soprattutto quello che segue. Disse queste cose e poi soggiunse loro. Lazaro, sentite, il nostro amico, ancora, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Non so se questo verbo addormentare, oltre a farvi venire in mente i nostri splendidi sogni che facciamo, non durante le prediche, ma a essere addormentati. Nei Vangeli, vi fa venire in mente un altro episodio della vita di Gesù? Quando c'è quel capo della sinagoga che si chiama Gairo, che ha quella bambina di dodici anni, che sta per morire, va a chiamare Gesù. Gesù lo segue, a un certo punto arrivano dalla casa e dicono tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? E Gesù come dice? Cosa dice? La bambina non è morta ma dorme. Allora questo si è addormentato, è un modo comune nel linguaggio di Gesù per indicare la morte. È talmente comune questo modo di intenderla morte che è passato anche nel nostro linguaggio. Mi spiego. Quando noi diciamo vado al cimitero, la parola cimitero cosa vuol dire? Viene dal greco. Il verbo koimao vuol dire, da cui koimao, cimitero, vuol dire dormitorio, letteralmente. Questa è una tipica visione cristiana. Chiamare il luogo dove noi deponiamo i corpi dei defunti. Cimitero vuol dire luogo dove questi corpi dormono in attesa di essere svegliati nella risurrezione finale. Per Gesù la morte è un sonno, cioè è un stato che attende il risveglio. Quando lui è in vita ha compiuto questi due gesti, tre via anche con il figlio della vedova di Nain, che con una certa precisione noi dovremmo chiamare, non dovremmo chiamare risurrezione, perché la risurrezione è soltanto di Gesù, che tornato in vita non muore più. Questi gesti vengono oggi chiamati, se volete un po' un gioco di parole, ma risuscitazione, perché sia il povero Lazaro e gli altri due poi una volta risorti torneranno nella terra, ma in attesa di essere appunto svegliati. Infatti dice così, Lazaro si è addormentato, io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli, i discepoli sono sempre dei bei fresconi, come dicono, signore, se si è addormentato si salverà, che tra l'altro significa si è addormentato, che bisogno c'è che tu vai a svegliarlo. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Questo è un altro tratto che accomuna sempre in tutti i Vangeli la figura dei discepoli, come marcati da una grande e clamorosa incomprensione. Allora Gesù disse loro apertamente, questo è tipico di Giovanni, il Gesù di Giovanni direi che, per certi versi, passatemi questa espressione, è un po' impaziente. È più paziente il Gesù dei Vangeli cosiddetti sinottici, mi spiego. Nel Vangelo di Marco i discepoli capiscono un tubo, zero, e più avanti del Vangelo più non capiscono, sono sordi, sono ciechi e Gesù ha una pazienza sconfinata. Tira dietro sto carrozzone mostrando davvero una pazienza sconfinata. Nel Vangelo di Giovanni un po' meno, cioè se non capiscono immediatamente, vedete qua, allora Gesù disse loro apertamente, non sta lì tanto a dire non avete capito, come mai, no, no, non avete capito, muovi spiego. Infatti, Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là. Un dice, ma come mai Gesù dice questa cosa? Che senza cuore è così cinico? No, attenzione, non sono contento di non essere stato là perché voi crediate. Cosa vuol dire questa cosa? Lo sappiamo. Perché attraverso la morte di Lazzaro si compierà questo miracolo che mostrerà chi è Gesù e dunque farà sì che possa sorgere la fede in lui. Perché voi crediate, come ha detto sopra, che io sono il figlio di Dio. Ma andiamo da lui. Quindi Gesù ha deciso di andare lì. Ancora l'incomprensione, questa volta di Tommaso, versetto 16, l'ultimo. Tommaso, chiamato Didimo, è il Tommaso quello della fine del Vangelo, eh? Il Didimo che vuol dire il doppio, no? Quello che un po' crede, un po' non crede, Tommaso, detto Didimo, disse agli altri discepoli, andiamo anche noi a morire con lui. Ho capito tutto. Questo va a risuscitare l'amico, loro, poveretti, Tommaso e anche gli altri, sono rimasti impressionati di quella tentativa di rappresaglia che c'è stato prima, di gettare i sassi. Certo, è un moto di generosità. Ti accompagniamo in Giudea, sappiamo che le cose non andranno bene, però c'è l'incomprensione. L'incomprensione, attenzione, ha due livelli. Primo, perché in Giudeo Gesù non va per essere lapidato, ma va per risuscitare Lazzaro. Seconda incomprensione, vi risulta che qualche apostolo sia stato così vicino al Signore nella vita pubblica, da essere disposto a morire con lui? Non pare proprio. In primis Pietro, sapete che fine fa, dice sì sì io darò la mia vita per te e poi... E dunque Gesù si avvia verso Betania e arriviamo un po' a quello che è quasi il centro del racconto, Gesù e Marta. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Questa, attenzione a questa indicazione di tempo, vuol dire, capite benissimo, vuol dire morto, morto. In più, quindi la realtà della morte, che è supportata da una credenza, che non è il mobile che avete in casa, la credenza, cioè da un modo di credere di allora, in base al quale si diceva, l'anima di un defunto sta in giro tre giorni attorno al morto per vedere se, magari, con qualche effetto speciale, può tornare in vita. Il quarto giorno vuol dire che basta, non c'è più nessuna possibilità. Quindi questa espressione era morto da quattro giorni, certamente può voler dire che era morto da quattro giorni, ma la realtà della morte è l'impossibilità assoluta di un ritorno alla vita. Betania, che è il villaggio dei tre, distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Allora, abbiamo già messo sulla scena i personaggi, Marta, Maria, Lazzaro, Gesù, Gesù per primo evidentemente. Qui aggiungiamo un quinto personaggio che avranno una piccola parte, oltre a Tommaso, in questo racconto. Sono questi giudei. I giudei chi sono? In questo caso hanno questa funzione molto bella. Vengono per consolare nelle culture antiche, come era da noi, forse ancora in parte, almeno in alcuni dei nostri paesi, anche se sta diminuendo molto questa cosa. Insomma, il lutto non era soltanto qualcosa di un singolo, era qualcosa di una famiglia e spesso era qualcosa di legato a un paese. Per cui, come qui, c'è un morto, ci sono due sorelle e c'è un gruppo di gente che si fa intorno, appunto per consolarle, che è una delle forme che la scrittura ritiene tra le più preziose, quelle del consolare in occasione di un lutto. E pensiamo com'è preziosa anche oggi la consolazione, che si mostra tante volte, dico tra virgolette, semplicemente stando vicini, senza fare grossi e lunghi discorsi. Però la consolazione nella Bibbia, il verbo consolare spesso è applicato a questo, ed è così faticoso che può essere anche rifiutata questa consolazione. Tutti noi abbiamo nell'orecchio, penso, quando durante il periodo di Natale si legge della strage degli innocenti, di queste mamme che non vogliono essere consolate, e lì l'Evangelista Matteo riporta quella frase della Bibbia, Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, che lì siamo di fronte a un lutto, perché non sono più. Allora, la consolazione nel lutto è preziosa, ma esige anche la pazienza di rispettare chi ha subito questo lutto e la fatica che questo tale o questa tale o questi fanno nell'interiorizzare quello che sta succedendo. Dunque siamo in questo scenario. Marta e Maria hanno avuto un lutto, i giudei vanno da loro. A questo punto, da questo scenario abbastanza statico, si stacca Marta, versetto 20. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece era seduta in casa. Qui vi ricordate forse Maria ai piedi del Signore ascoltava la sua parola, se le sorelle sono le stesse ci sta. C'è una Marta intraprendente, una Maria più, diciamo, stanziale. Marta disse a Gesù. Sentite. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Bella sta frase, perché cosa dice al di là del contenuto? Se io dico una frase così a Gesù, ripeto, al di là del che cosa dice. Ma la possibilità di dire una frase così presuppone una confidenza. Ecco gli amici. Gli amici, tra gli amici si dice tutto. Si può anche prendere di petto, tra virgolette. Gesù come fa questa donna? Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma attenzione, aggiunge, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio te la concederà. Allora, confidenza, prima parte dell'espressione, fiducia, una fiducia totale, capite? Qualunque cosa. Quindi dietro a questa espressione noi intuiamo che Marta e poi anche Maria di Gesù considerano certamente l'amico, ma anche qualcuno di più. Come risponde Gesù? Tuo fratello risorgerà. Questa frase viene subito interpretata da Marta in modo pulito. Dice, so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Che cosa si pensava in Israele? Non tutti, ma tanti. Non tutti perché si divideva un po'. Comunque i farisei dicevano ci sarà una risurrezione, sì, ma quando ci sarà questa risurrezione? Quando ci sarà la fine del mondo. Ricordatevi queste due cose. L'idea della risurrezione era c'è una risurrezione alla fine del mondo. Secondo, c'è una risurrezione di tutti gli uomini, e uno andrà da una parte e uno andrà dall'altra. Capite che su questa base ci sarà una risurrezione alla fine del mondo e sarà una risurrezione comunitaria. Gesù di Nazareth manda all'aria proprio questo impianto. Perché la sua risurrezione non è alla fine dei tempi, ma è adesso, non è di un gruppo, ma è di un singolo. Capite? Quando noi diciamo che sia la croce sia la risurrezione vanno contro il comune modo di pensare. Oramai della croce lo sappiamo, abbiamo ascoltato anche tante prediche, era il supplizio degli schiavi. Un po' meno si dice questa cosa della risurrezione, anche perché noi diciamo lo sottovoce, insomma, siamo un po' in deficit, soprattutto nei cattolici, di riflessione sulla risurrezione. Avevo nell'orecchio, ma sono andato a vedere proprio per scrupolo, nel catechismo di San Pio X, quali sono i due misteri principali della fede? unità, eternità di Dio, passione, morte, risurrezione non c'è, non c'è, a meno che io ho una versione tarocca, ma sono andato proprio a vedere. Perché? Perché dove finiva la risurrezione? La risurrezione finiva nel numero dei miracoli, era il grandissimo miracolo che aveva fatto Gesù, o il Padre. Quindi, invece, la spiritualità, diciamo, la tradizione più ortodossa, il cristiano d'Oriente, noi abbiamo considerato soprattutto la croce. Chi ci ha salvato? Gesù sulla croce, fino al cinema. La risurrezione conferma male la croce. Gli ortodossi, invece, sono più attirati dalla risurrezione. In questo caso, torniamo a noi. Quindi, Marta risponde con il catechismo di allora, so che risurgerà nell'ultimo giorno. Gesù cosa dice? Attenzione. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Qui che cosa avete? Avete uno spostamento da una concezione di risurrezione, chissà che cosa sarà, a una risurrezione che si lega a chi? A una persona. Io sono la risurrezione e la vita. E con quello che segue, se tu ti fidi di Gesù, questo vuol dire credere, lui con la sua risurrezione ti porterà dalla morte alla vita. Ma Gesù, come spesso nel Vangelo di Giovanni succede, non si limita a dare una professione. Credi tu questo? Eh, io sono la risurrezione e la vita. Tu aspetti una risurrezione alla fine del mondo? Ma credi che io posso fare questo? E come risponde Marta? Sì, o Signore, io credo che, sentite, questa è una donna di grande fede, credo, primo, che tu sei il Cristo, quindi il Messia. Due, credo che tu sei il figlio di Dio, che non è poco. Tre, colui che viene nel mondo, che era un termine classico per indicare nel linguaggio di allora il grande profeta sulla stregua di Mosè. Allora la fede di Marta è una fede molto, molto alta. A questo punto, quindi questo è l'incontro tra Gesù e Marta, arriviamo alla parte finale del nostro testo. Per non stare indietro, arriva anche l'altra sorella, evidentemente, perché altrimenti, eh, lotte in casa, eh, se una sorella fa una cosa e l'altra non la fa. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella di nascosto, le disse, il maestro è qui e ti chiama. Il maestro, quindi c'è questa, questo passaparola, udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là, dove Marta gli era andata incontro. Bello questo Gesù che, anche fisicamente, è bloccato. Non ha fatto un passo quando ha visto arrivare questa, questa donna. Allora i giudei, che erano in casa con lei, a consolarla, quindi con Maria, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Qui i giudei, evidentemente, interpretano perfettamente la parte dei consolatori. Attenzione all'incontro tra Maria e Gesù. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli, signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Maria si ferma qui. Si ferma alla stessa confidenza di Marta, ma non aggiunge altro. E adesso entriamo nel vivo, perché nel vivo vuol dire la conclusione. Qui vi inviterei, prima di tutto, a tenere d'occhio i sentimenti di Gesù. Gesù allora, notate, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei. Anzitutto qui Gesù si accorge che c'è gente che piange. Sembrerà una cosa da poco. Si può vivere in mezzo a gente che piange e non accorgersi. Certo, se sei avuto un funerale, ok. Ma voglio dire, è l'attenzione di Gesù all'umano, perché immediatamente si dice si commosse profondamente e fu molto turbato e domandò dove l'avete posto. Voi sottolineate questi verbi che vi ho messo lì, si commosse profondamente, fu molto turbato. Questi due verbi dicono, cercano di dire qualche cosa del cuore di Gesù. Non dobbiamo mai immaginarci un Gesù impassibile, un Gesù invece sensibilissimo alle gioie e ai dolori. Questo turbamento, guardate, soprattutto questa parola, compare ancora un paio di volte avanti nel Vangelo. Compare quando Gesù subodora che sta arrivando proprio la sua passione. La mia anima è turbata e che devo dire padre salvami da quest'ora. E poi il secondo riferimento è quando, nell'imminenza del tradimento, di Ciuda. Fu molto turbato. Allora, qui abbiamo questi sentimenti di Gesù che si accavallano e domandò dove l'avete posto. Signore, vieni a vedere. Versetto 35. Gesù, qui c'è una bellissima traduzione, scoppiò in pianto. È proprio il modo più bello per descrivere. È proprio, dovremmo quasi sentire il fragore. Non è un pianto sommesso, è un pianto gridato. Qui mi fermo perché anni fa, facendo il corso su San Giovanni in seminario, ho letto qualche commento, soprattutto quelli più antichi che erano molto attratti alla divinità di Gesù, che ragionavano un po' in questi termini. Dicevano così, ma alla fine, questo pianto qui è un pianto inutile. Perché? Tanto lo risuscita. Che piange a fare? Tentrasà, insomma, no? Tempo buttato via, lacrime buttate via. Certo, se uno ragiona così non ha capito niente. Cioè, se uno ragiona così ha un'idea di un Gesù che sta nell'alto dei cieli. Il pianto di Gesù ci dà lo spessore della sua amicizia. Per questo è preziosissimo. Un calcolo, come quello di cui facevo riferimento prima. Certo, se guardi dal punto di vista della divinità di Gesù, dell'essere figlio di Dio non era necessario. Ma per l'uomo Gesù questo pianto non solo è necessario, è indispensabile. E ci fa bene sapere che questo Gesù piange davanti alla tomba dell'amico Lazzaro. Ti fa capire fino a che intensità può arrivare l'amicizia di Gesù. Di fronte a questo pianto succede quello che spesso succede nel Vangelo, ma che succede anche nelle nostre vite, che di fronte a uno stesso fatto si danno due interpretazioni opposte. Infatti, dissero loro i giudei, guarda come lo amava, A, B, ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco. Non poteva anche far sì che costui non morisse? Non so da che parte ci schieriamo. Sono quelli più calcolatori, quelli più emotivi. Qui torna quell'aspetto che abbiamo sottolineato settimana scorsa. Davanti a Gesù ci si divide. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Si seppelliva così, c'era una specie di caverna, come la tomba di Gesù, davanti a una pietra. Disse Gesù togliete la pietra, togliete la pietra in modo che si possa vedere il cadavere. Di rispose Marta, la sorella del morto. Marta si vede che è molto pratica, oltre a cucinare bene, aveva un gran fiuto perché dice, signore manda già cattivo odore. È lì da quattro giorni. Quindi cosa apriamo a fare? Gesù le disse, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio, se crederai potrai vedere che io all'opera sono la risurrezione e la vita. Ricordate cosa ha detto prima a Marta? Io sono la risurrezione e la vita. Tossero dunque la pietra. Gesù alzò allora, alzò gli occhi e disse, attenzione qui c'è qualcosa di strano. Prima di compiere questo gesto, qui proprio dal punto di vista narrativo è fantastico, perché noi siamo tirati sulla corda. Il miracolo normalmente nei Vangeli, anche in Giovanni, succede prima poi c'è un lungo discorso. Qui sei tirato fino all'ultimo, poi il miracolo avviene in due battute. C'è ancora qualcosa da chiarire, ed è la preghiera. Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Gesù ringrazia prima di fare. È certo che quello che farà è frutto dell'ascolto del Padre. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Gesù ringrazia prima ancora che il gesto sia fatto, perché è certo che in Lui il Padre agirà. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro vieni fuori. Questa è l'ultima parola di Gesù prima della risuscitazione. Ed è una parola fortissima, che proviamo, negli ultimi minuti, a far suonare un po' in varie direzioni. Questa qui anzitutto è una parola che ha il sapore della creazione. Come si apre la Bibbia? Dio disse sia la luce, e la luce fu. La parola di Dio crea. La parola di Gesù, Lazzaro vieni fuori, crea, ricrea, dà vita a Lazzaro. Ancora qualcuno dice qui Gesù si sta comportando come il buon pastore, di cui ha parlato nel capitolo decimo. Proprio nel capitolo precedente, sono attaccati. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conduco fuori. O ancora, anche questa è un'ultima suggestione, che viene da qualche interprete, qui Gesù sta realizzando quello che dirà più avanti, e che, se Dio vorrà, magari vedremo un anno prossimo, nel Cenacolo dirà, vi ho chiamato amici. È l'amico che chiama l'amico. In un modo o nell'altro, comunque lo si interpreti, questo grido di Gesù, Lazzaro vieni fuori. Vi ho già detto, no? Il morto uscì, uscì, i piedi e le mani legate con le bende, ho già detto la battuta famosa, no? Poi non c'è nel testo. La gente dice, ma come sei conciato, Lazzaro? E lui risponde, taci, taci, sono vivo per miracolo. Va bene, ma questo non c'è evidentemente. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con le bende e il viso avvolto da un sudario. Bende, sudario, adesso qui non è che bisogna essere proprio biblisti, ma facciamo un triplo salto mortale. Quando si va alla tomba la mattina di Pasqua? Che cosa si trova? Che cosa trovano Giovanni e Pietro nella tomba? Il sudario e le bende. È la stessa attrezzatura, eh? Quindi qui cominciamo a accendere la lampadina, risurrezione di Lazzaro, risurrezione di Gesù. Gesù disse loro, ultima parola, liberatelo e lasciatelo andare. Questa è davvero una risurrezione per la vita. Ecco, vorrei chiudere queste note di commento con quello che avete lì sul foglio come significato globale di questo brano. La liturgia ci aiuta, in modo limpido noi potremmo stringere in quelle due righe che avete lì il significato dell'episodio che abbiamo ascoltato. Che come vedete dal primo punto, dalla prima nota, queste due righe vengono da una preghiera che si recita durante la messa, il prefazio, nella quinta domenica di Quaresima, quando si legge questo episodio nell'anno A di Lazzaro, cioè, vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio e Signore della vita lo richiamò dal sepolcro. In queste due righe c'è una bellissima sintesi. Il brano della risurrezione di Lazzaro, partiamo dalla seconda, ci dice qualche cosa del mistero di Gesù come Signore della vita, come figlio di Dio che ha la vita in sé e la può donare. E qui aggiungerei un altro particolare, dà la vita, ha dato la vita a Lazzaro, il padre darà a lui la vita nella risurrezione. La risurrezione di Lazzaro è l'anticipo della risurrezione di Gesù, ma altrettanto quell'altro aspetto, vero uomo come noi, pianse l'amico Lazzaro. L'abbiamo visto prima, il pianto di Gesù come pianto dell'amico. E vi ho riportato su questo aspetto dell'amicizia il parere di un grande patriarca ortodosso, Atenagora, e quello che incontrò Paolo VI nel famoso viaggio, in primo viaggio in Terra Santa nel gennaio del 64, quando ci fu questo abbraccio che siglò la fine delle contese tra Oriente e Occi, tra gli ortodossi e i cattolici, Paolo VI e Atenagora. Atenagora era molto amico di Paolo VI e ha rilasciato a questo tale, trovate lì in fondo alla pagina, si chiama Olivier Clemon, una bellissima intervista che hanno ripubblicato qualche anno fa, e chiudo con questo pensiero, diceva così questo tale, un grande esperto anche lui di lettura biblica, diceva, patriarca Atenagora, forse ai padri, cioè agli antichi scrittori cristiani, è sfuggito qualcosa, l'umanità così semplice di Gesù. Ripensiamo al Vangelo di Marta e Maria, ora Gesù amava Marta e sua sorelle Lazzaro, quello che mi ha letto qui, versetto 5, gli piaceva andarsi a riposare presso i suoi amici, ha voluto rivederli prima della sua passione. Andando incontro alla croce volontariamente per lottare e vincere in un dramma cosmico, e i padri hanno parlato di ciò in modo stupendo, persino allora, proprio allora, ha sentito il bisogno di fermarsi tra i suoi amici e di gustare ancora una volta quell'amore umano. Bellissimo questa cosa. È quello che succede qui, nel brano di Lazzaro, noi possiamo verificare quanto sia vera questa cosa. Prima di andare a morire, perché poi il Vangelo di Giovanni tutto è proiettato su quello. Ecco, con questo testo del Vangelo, ora noi possiamo continuare, per chi vorrà, nella nostra riflessione preghiera in chiesa, e questo è proprio un Vangelo che per un verso ci aiuta, questo primo venerdì di Quaresima, a guardare a quella Pasqua alla quale ci porta la Quaresima, che è una strada non soltanto di morte, o meglio di morte, che porta alla vita. E poi ancora, questo testo noi lo possiamo leggere, pregare, anche pensando a tutte le persone che in un modo o nell'altro ci sono amiche e si sono affiancate nella nostra vita e ci hanno trasmesso qualche cosa del mistero di Dio, anche con la loro umanità. Bene, grazie. Possiamo.